Torna la dodicesima edizione di Novilara Arte Gusto. Dalla cultura alla tavola, il 5, 6, 7 luglio nel castello di Novilara, tre serate con sapori e degustazioni di piatti tipici, arte e letteratura, concerti ed ospiti d'eccezione, come Leonardo Manera, Ippolita Baldini, Andrea Paris. Ti aspettiamo a Novilara Arte Gusto, il 5, 6, 7 luglio.